Il digital marketing sarà sicuramente un elemento che porterà un estremo valore nel momento in cui potrà permettere una facilità di contatto e di relazione tra le persone. Quindi sarà un valore aggiunto nella relazione tra le persone, non andrà a sostituire quella che è la relazione umana ma andrà ad implementare questo tipo di relazione. Così come oggi noi ci confrontiamo con i nostri familiari o con i nostri amici con il whatsapp, così anche domani questo tipo di tecnologia supporterà la comunità scientifica, il medico e il paziente. Cosa si potrebbe concretizzare in effetti il digital marketing? In una comunicazione più efficace.